Ci sono i pesce dopo! Ci sono... Ho esagerato. Scusa. Ci sono i pesce cane! Tra di loro i ragazzi si innamorano delle uniche ragazze che stanno sulla zattara e cercano tutti quanti di farle la corte. Ho detto ragazze, ho detto ragazze, ho detto ragazze. Adesso scende anche una musica romantica per far sì che il loro amore venga ancora più amplificato. La musica eccola. Sta l'uno pare la scorza di limone, mi piace capire. Ma all'improvviso scoprono che le ragazze sulla zattara sono travestiti, sono maschi! La fame aumenta! La fame aumenta! La fame aumenta! E il gruppo, tra fame, sete, caldo, non ce la fa più. Iniziano a scendere, le forze non ci sono più, le energie non ci sono. E hanno sonno, cercano di dormire, ma bisogna non si possono stendere. Trovano un modo per appoggiarsi l'uno all'altro. All'improvviso, la sveglia dell'unica maschera in piedi suona! E sveglia tutti! Ok, non c'è un filo di vento! Non c'è nemmeno un filo di vento! Cercate di far muovere la zattera in tutti i modi possibili! Cercate di far muovere la zattera! C'è chi rema! Ti prova a fare una vela! Non lo so, là dietro stanno soffiando le candeline! Ti prova, ci prova in tutti i modi! La zattera non si muove! La zattera non si muove! Sta andando da lontano! Vedete la terra! Terra! Sono tutti questi bambini! Terra! Accontate le mani! Tutti questi bambini! Terra! C'è una terra! Ma vi rendete conto che è l'Isola dei Famosi? Girate la zattera e tornate a casa! Un grande applauso ai ragazzi del Gato della Folline! Adesso, un grande applauso! Adesso invitiamo la scuola... Stiamo a vedere una cosa! La scuola! Perché dovevo vestirmi in una maniera più famiglia! Con guardia!